Alla chiusura delle ali, velocissima, non solo a blu, da largo, attacca, mal di giri falco e lanci il lotto, poi Janez, si vanno a delineare le posizioni, mal di giri falco attaccato a fondo da non solo a blu, manda via Castaldo, duecento in quindici secchi, non solo a blu, precede mal di giri falco e lanci il lotto, poi Ottone, Getto e Giuseppe San, a largo rimane Janez, PL. Primo quarto completato in trenta e due, gradu adesso non solo a blu, ferma di passo, non solo a blu, ne approfitta Janez per avanzare. Seicento in quarantasei e due, si formano diverse pariglie, non solo a blu, precede mail, poi Janez con in schiena, Omero Tommy, lungo la corda lanci il lotto che tira, poi Ottone, Getto e Giuseppe San, uno, due e qualche spicciolo, gli ottocento. Non solo a blu sta gestendo molto bene tatticamente, tiene ai fianchi Janez, PL, con i schiena, Omero Tommy, poi la mossa in terza ruota di Oasis Stars, lungo la corda lanci il lotto, mancano 500 metri alla conclusione. Adesso non solo a blu è sollecitata, attaccata a fondo da Janez che controlla mail alla corda, poi Omero. In terza ruota o Asi Stars, in quarta o Giuseppe San, mail che non trova lo spazio per sprintare, retta d'arrivo, battute conclusive, Janez attacca non sola, poi mail che non può correre, lo stesso Lancillotto, arriva forte Lancillotto, non solo a blu, la vince tatticamente, mette De Filippo, mette tutti nel sacco De Filippo questa sera al Cirigliano, con non solo a blu, va davanti, grado a piacimento, si tiene a fianco Janez per non far sgabbiare, ma di girifarco il Lancillotto, e respinge Janez, 5-4 e per il terzo.